L'ostruzionismo messo in atto dall'intera opposizione ha delle radici profonde che vanno ben oltre la spicciola propaganda che la maggioranza sta mettendo in atto e cioè che sarebbe un ostruzionismo finalizzato a bloccare gli europei di pallavolo. Insomma niente di tutto ciò è vero. Da almeno un anno chiediamo alla maggioranza, al governo, alla presidenza del consiglio di mettere a disposizione di tutti i consiglieri regionali soprattutto quelli di opposizione per far svolgere il loro ruolo di oppositori tutta la documentazione di cui abbiamo bisogno a partire dalle delibere, dalle determine che riguardano ad esempio gli atti di giunta, agli atti dell'assessore Verì e quindi tutti quelli relativi alla sanità che molto interessa i nostri concittadini abruzzesi. Tutti gli atti e tutte le iniziative che si stanno prendendo, che la giunta sta prendendo di fatto in gran segreto sul PNRR e cioè delle risorse ingentissime che molto probabilmente la regione Abruzzo non vedrà mai più, perlomeno noi non ce lo ricorderemo, nei decenni a venire. E insomma metterli sul tavolo, farci capire, far capire anche all'opposizione la direzione che questa maggioranza vuole dare a Regione Abruzzo, qual è la visione del presidente Marsilio, tutte cose che dovrebbero essere normali in un consiglio regionale che è fatto appunto di maggioranza e opposizione, tutte cose che però la maggioranza tiene di fatto nascoste. Per cui l'opposizione nella precedente seduta di consiglio regionale e in questa è dovuta, diciamo, l'opposizione e l'ostruzionismo è dovuto a questo, cioè al fatto che mancano gli strumenti minimi e necessari ai consiglieri regionali per svolgere il loro lavoro, ruolo di consiglieri regionali. Noi ovviamente continueremo fino a quando le nostre prerogative non saranno garantite e soddisfatte e quindi non saranno garantiti e soddisfatti i diritti dei cittadini abruzzesi.